La società moderna è sempre più orientata ad un ritorno al biologico e alla preservazione ambientale. Da oltre 50 anni la FIPA Cosmetics è estremamente attenta a queste problematiche e ne condivide appieno la filosofia. Nasce da qui l'idea della linea fase essenziale, formulata con estrema attenzione alla scelta delle materie prime, nel totale rispetto della natura e soprattutto del consumatore. Fase essenziale è una linea di prodotti specifici per ogni tipo di capello, formulata unicamente a base di oli essenziali e detergenti derivati dagli zuccheri, concepita per contrastare sintomi quali invecchiamento precoce, inaridimento eccessivo e caduta, favorisce la ricrescita proteggendo il capello dagli stress ambientali. assolutamente priva di SLS e SLS e anche di alcol, profumi, coloranti e qualsiasi derivato del petrolio, rappresenta quanto di più naturale possa essere concepito ad oggi. Benvenuti alla FIPA Gli oli essenziali sono da sempre utilizzati per le funzioni purificatrici e riequilibranti dell'epidermide e del cuoio capelluto. La sinergia tra gli oli essenziali e i detergenti derivati dagli zuccheri, insieme alla mancanza di sostanze aggressive come SLS, SLS e derivati del petrolio, evitano l'insorgere di intolleranze che possono portare nel tempo ad allergie momentanee o croniche. Proprio per questo la FIPA ha creato la lozione ADVANCE pretrattante. ADVANCE è una lozione riequilibrante a pH epidermico, specificamente indicata per pulire il cuoio capelluto in superficie e purificarlo, svolgendo un'azione lenitiva e disintossicante prima di iniziare qualsiasi trattamento. Il chimico della FIPA, Stefano Scorsino, che ha studiato e realizzato l'intera linea, ci accompagnerà in questo tour nel mondo di fase essenziale. Tutta la linea fase essenziale è stata sviluppata grazie all'ausilio del microvisore. Il microvisore è uno strumento che permette di ingrandire il cuoio capelluto e il capello da 50 a 200 volte e grazie a questo possiamo vedere nel dettaglio l'azione dei prodotti e lo stato del cuoio capelluto. La linea fase essenziale ADVANCE, grazie al suo particolare pH, permette l'eliminazione di grasso e sudore dal cuoio capelluto, mantenendo inalterato lo strato acido lipidico cutaneo. La presenza di acido glicolico e di arginina permettono un'esfoliazione profonda ed indolore, permettendo poi agli oli essenziali di cedra e di menta di penetrare all'interno del cuoio capelluto, donando un effetto lenitivo e rinfrescante allo stesso tempo. Fase essenziale si compone di quattro linee, ognuna studiata per uno specifico problema del capello. Detoxifying, sebo control, air gym ed equilibrio. L'attività fisiologica del capello prevede una nascita, un periodo di crescita e la sua morte. In condizione di disagio ambientale, spesso la matrice pilifera sostituisce il capello caduto con uno di calibro nettamente inferiore, oppure non lo sostituisce affatto, e si ha una problematica che prende il nome di alopecia. Le cause che portano alla caduta dei capelli sono molteplici e varie, come transizioni stagionali, condizioni particolari di stress e disfunzioni ormonali. La linea air gym, shampoo e trattamento energizzante, ha un forte effetto rinvigorente grazie alla creatina monohidrato, in sinergia con oli essenziali di eucalipto e cannella. Questo trattamento stimola e rinvigorisce il capello e il cuoio capelluto, ristrutturando i capelli sfibrati e danneggiati in profondità. Ed ora Stefano Scorsino, il chimico della Faipa, ci aiuterà ad approfondire le caratteristiche e l'effetto energizzante di air gym. La caduta dei capelli è una problematica multifattoriale che va da transizioni stagionali, disfunzioni ormonali o stress di varia natura. Noi abbiamo pensato tutta una serie di prodotti in questa linea che stimolano sia la microcircolazione a livello del bulbo pilifero e sia che stimolano potentemente il metabolismo cellulare. Per fare ciò abbiamo utilizzato la creatina monohidrato, un nodo amminoacido naturale che serve a stimolare il metabolismo cellulare ed energetico del bulbo pilifero e del capello. Inoltre abbiamo utilizzato tutta una serie di oli essenziali i quali concorrono ad aumentare la microcircolazione a livello del bulbo pilifero. Presente in tutta la linea tutta una serie di prodotti di natura sia naturale che biotecnologica, i quali permettono di potenziare l'effetto di stimolazione del metabolismo e di microcircolazione. Dei sulfopeptidi, dei sali di zinco, sali di calcio, sali di magnesio, vari altri amminoacidi che permettono non solo di rinforzare il metabolismo ma anche di rinforzare il capello. Con l'aiuto di Stefano Santamaria, responsabile della scuola Air System Academy e responsabile tecnico ed artistico della Faipa, scopriremo il modo d'applicazione ed il ciclo applicativo della linea Air Gym. Andremo ad applicare uno shampoo Air Gym nella linea fase essenziale antigaduta. Faremo due shampoo energizzanti proprio per stabilire e ristimolare un attimino la circolazione, fare una pulizia del cuoio capelluto. Successivamente metteremo la fiala anticaduta che sarà la fase curativa di tutta la linea fase essenziale Air Gym, anticaduta. Cominciamo subito dallo shampoo. Andremo a fare uno shampoo Air Gym proprio per avere subito un'immediata pulizia del cuoio capelluto che ci permetterà di fare la seconda applicazione della fiala che sarà la fase curativa della linea Air Gym. Quello che consiglio sempre è di massaggiare il cuoio capelluto, mai ad andarlo ad aggredire con massaggi troppo forti. Il massaggio deve essere sempre una cosa delicata ma profonda. bene abbiamo terminato lo shampoo alla nostra modella celeste ora andremo ad applicare la fialetta antica tuta con il suo apposito dosatore per dosare bene tutto il prodotto e poterlo distribuire su tutta la testa. Ovviamente parto dalla parte centrale, andrò a gocce a distribuirlo su tutto il cuoio capelluto. Terminato tutta l'applicazione della fialetta Air Gym, passerò a un massaggio specifico per il trattamento anticaduta perché sarà un trattamento con un massaggio particolare perché l'Air Gym è un prodotto a base di peperoncino che andrà dosato su tutto il cuoio capelluto. Ma quello che è importante di questo prodotto è applicarlo sulla cute. dell'Air Gym abbiamo due tipi di fiale, una scatola da 6 per la caduta intensiva, una scatola da 12 per mantenimento e continuo del prodotto. come ho detto andremo a fare un massaggio circolatorio partendo dal centro testa allargando le dita con i polpastrelli piano piano perché la situazione con il peperoncino e gli oli essenziali riattivano tutta la circolazione sanguigna e soprattutto gli oli essenziali andranno assorbiti proprio per riattivare il bulbo perifero evitare energia su tutti i capelli per cui è ottimo per la ricrescita ma essenziale anche per il mantenimento. Terminato il massaggio lasceremo in posa la nostra amica dopodiché passerà direttamente all'asciugatura. il risultato il capello danneggiato e sfibrato viene ristrutturato e reso resistente brillante e corposo. ciò che si deve inserire il video di www. ook.seg.seg.e. Grazie per la visione!